Proviamo a riflettere sull'esperienza che abbiamo avuto. Innanzitutto abbiamo passato un pomeriggio che la maggior parte delle persone sul pianeta non trascorre. Ognuno di voi ha fatto l'autobiografia, quindi si è messo là a ripercorrere la propria vita e a scrivere, ritornando nell'infanzia, l'adolescenza, tutto quello che è il vostro bagaglio, la vostra storia. Poi avete avuto questa, a mio avviso, grande opportunità, poi valutatela voi, di condividerla con un gruppo. La prima cosa che vi dico, che è stupefacente, e credo che l'abbiate notato tutti, il silenzio, che è lo stesso che c'è ancora, che è il silenzio sacro di cui io vi ho parlato all'inizio della scuola. Vi ho detto, ci sono certe cose che si fanno in un silenzio sacro. In questi anni insieme, voi avete tante volte cercato di crearlo, il silenzio sacro. Però scappava la parola, scappava la risata, scappava la battuta, perché quello era un silenzio imposto. Era un silenzio a volte di educazione, era un silenzio di circostanza. Invece, ora, ognuno di noi ha fatto silenzio dentro di sé. Io non ho visto nessuno che sentiva l'esigenza di dover parlare, dire, chiacchierare con la persona a fianco, o anche fare un commento. Se ci avete fatto caso, ci sono stati momenti in cui una persona leggeva la sua storia e poi stava zitta per qualche secondo. E nessuno si muoveva, nessuno parlava. Perché avete fatto silenzio interno, eravate là ad ascoltare la storia di qualcuno, proprio a sentirla dentro. E non c'era proprio l'impulso nervoso di aprire la bocca. Vi ci trovate su questo? Perfetto. Quindi, io vi dico grazie, ma veramente sentite che bello vivere un'esperienza di silenzio vero, di silenzio sacro, di silenzio in cui io ascolto, non ho nulla da dire, nulla da pensare, nulla da fare, sto qua e ascolto. Mi riempio della storia dell'altra persona. Quindi questa è una prima cosa veramente meravigliosa per me. Ogni volta che accade, perché accade, ripeto, nessuno l'ha creato, si è creato. L'abbiamo creato tutti insieme. Seconda cosa importante, io credo che abbiamo tutti ricevuto la più grande lezione che un essere umano può ricevere sulle relazioni. Ovvero, sentendo 20 storie diverse, avete percepito delle differenze abissali, differenze quelle che sono di superficie, che ora in quel silenzio potete percepire come di superficie, differenze di, chiamiamolo, status sociale delle varie famiglie, ok? Differenze economiche. C'è chi ha parlato di un periodo della vita in cui non poteva mangiare, non poteva vestirsi. C'è chi ha parlato, subito dopo, di una vita in cui i miei genitori mi portavano ai concerti, facevo quello che volevo, suonavo, ok? Che possono sembrare, e se non siamo in quel silenzio sembrano, la vita della fortunata e della sfortunata. E invece no. Ora lo sapete, perché ne avete fatta esperienza. Pensate a questa semplice cosa. Noi siamo tutti in questa stanza. Uno è partito da altre differenze. I miei genitori litigavano sempre, si odiavano. Io dovevo scappare di casa per non sentirli. I miei genitori sono stati una coppia quasi perfetta. Si amavano, si rispettavano. I miei amici mi insultavano, i miei amici mi sostenevano. Quindi tutte queste differenze che fanno sembrare vita di serie A e vita di serie B. Chi è stato fortunato e chi è stato sfortunato. Guardatelo, guardatevi. Siamo tutti in questa stanza. Non ve lo posso spiegare quello che vuol dire. Lo dovete percepire. Siamo tutti qua. Cioè Fiumi diversi, strade diverse che portano tutti allo stesso mare. Finché noi giudichiamo i fiumi, guardiamo ognuno il fiume dell'altro, pensiamo che ci siano delle differenze sostanziali. Invece il mare è il mare dell'umanità, è il mare della ricerca. Come mai una persona che ha avuto apparentemente una famiglia normale, come qualcun altro l'ha definita, io definire la mia famiglia normale. Altri hanno detto la mia famiglia mi ha dato sempre solo amore, non ho nulla da dire ai miei genitori. Altri hanno detto la mia famiglia è stata devastante, definirla tossica è poco. E come mai siamo qua? Qui ci dovrebbero essere o tutti i devastati, per come ragiona la nostra mente? No, questo è un corso per devastati. No, allora è un corso pure per chi ha avuto tutto l'amore del mondo. Sì, perché con esperienze diverse arriviamo alla stessa ricerca, che è una ricerca interiore. E quindi là, se hai avuto 12 vestiti e io invece avevo le scarpe rotte, non conta. Se i tuoi genitori non litigavano, non conta, perché poi ti sei sentita, comunque anche tu hai avuto le tue ferite. Umiliazione, tradimento, abbandono, ingiustizia. Le abbiamo provati tutti, fatti diversi che ci conducono a noi. Ogni fatto della vita sostanzialmente riconduce a noi stessi. Quindi abbiamo, voi avete letto delle storie tutte meravigliose, perché ogni vita è meravigliosa. ma in tutte c'era un fattore comune, la sofferenza. Poi c'era un altro fattore comune, la speranza. Poi c'era un altro fattore comune in tutte, la forza. ognuno l'ha trovata in situazioni diverse. Quindi se ci pensate, ogni evento della vita è là per farci conoscere, è là per metterci di fronte a noi stessi. chi ha subito la morte di un fratello, chi ha subito la separazione dei genitori, chi ha subito la morte dei genitori, chi invece ha i genitori ancora in vita e che stanno là, sono una coppia, si amano. Ma siamo tutti qua. Mi dite se vi arriva questa cosa. Il film è diverso, ma il fine è lo stesso. Ecco perché in luoghi e in momenti come questo naturalmente si fa silenzio, ovvero che cosa si spegne? Il giudice interno ed esterno. Perché non hai nulla da giudicare. Non credo che in nessuno di voi, questo mi giocherei la vita, è nata l'idea, beh io farei a cambio con la sua vita. Beh lei però in effetti è stata fortale, lei aveva il pianoforte, io no. Quello è quando siamo nel rumore mentale. Che tu vedi la macchina, i soldi, la casa più grande, tutte queste cose che alla fine quando sei qua nel silenzio, quando ti racconto la mia storia, ti dico chi sono, non ti dico che lavoro ho, quanti soldi ho. Quando ci mettiamo di fronte a noi stessi e quindi agli altri come persone, si annullano davvero e non possiamo farlo forzatamente. Noi possiamo illuderci di dire no, no, ma non voglio invidiare le persone, non voglio guardare a chi ha più di me. Più dici non voglio e più ti ritrovi a farlo. Se invece spegni il rumore mentale, ti metti in silenzio, apri il cuore, senti che siamo tutti nella stessa barca, o meglio ancora, barchette diverse, ma tutti nello stesso mare. E se ci vai con lo yachto, ci vai con la zattera, conta poco. perché l'avventura, perché l'avventura, il mare, quello che conta è la vita. Mi dite se sentite queste cose, non se pensate, rimanete nello stato giù, profondo. Sentite qualcosa che è difficile da provare normalmente. Ecco, questa è la magia di un incontro tra persone. Abbiamo iniziato, ed è bello perché c'è anche un cammino, abbiamo iniziato tre anni fa in cui giustamente si faticava a tenervi zitti. Io purtroppo ho una memoria che ricordo dalla presentazione fatta a Bologna, alla prima lezione, tutta la slideshow che hai fatto vedere per me è tutta nella mia testa. Ricordo veramente ogni attimo passato con voi. ed è spettacolare chiudere con un momento così che sarebbe stato inimmaginabile tre anni fa. Per questo siete davvero maturati. Da questo punto di vista sicuramente è un momento particolare quello di oggi, ma io vedo persone che hanno maturato un contatto con se stesse e con gli altri di una densità emotiva, di una densità di ascolto vera, reale. Quindi da un lato vi ringrazio per l'esperienza perché è una di quelle altre cose che mi porto dentro e che farà parte di me. Dall'altro vi chiedo davvero di notarlo, di non lasciarlo passare come... Beh, è stato un pomeriggio. Fatene tesoro, portatelo dentro di voi. Tenetelo sempre là, perché quando non saprete che fare, quando qualcuno vi vorrà parlare, quando voi avete bisogno di ascoltare voi stessi, ricordate questo pomeriggio e tornate in questo tipo di silenzio, ancoratevi questa risorsa. E ultima cosa che vi dico, e poi andiamo a cena, che è veramente tardi. Qualcuno di voi ha detto perché rileggere il passato? L'ho già fatto, l'ho già elaborato? E non è vero che... Te la racconti. Probabilmente l'hai già elaborato. Ok? Preferisco, e giustamente, e sempre sia così, vivere il presente. Però ricordate che una cosa è rimuginare sul passato, altra cosa è elaborare il passato. perché la prima cosa che vi ho detto quando siamo entrati in questo seminario è ricordatevi che nell'autobiografia voi incontrate, nel mio caso, Antonio di sei anni, Antonio di otto anni, di dieci, di quindici, con tutto quello che ha vissuto. Ma tutti quegli Antonio, a matriosca, sono tutti dentro di me. Quindi non è ignorandoli che risolvi la questione e puoi essere presente. tutte quelle parti sono un ostacolo a essere presente se sono là arrabbiate, hanno qualcosa da ridire e se non le vediamo ci agiscono. Se invece le vediamo, le integriamo, le mettiamo a posto, quindi esattamente come hai detto, l'ho fatto, allora a quel punto scrivere la biografia non ti dà nessun problema. La scrivi e dici wow, questo era Antonio di sei anni che aveva vergogna di parlare davanti agli amichetti, che bello, questo è Antonio adolescente che pensava che tutti lo giudicassero, mamma mia che bello, bello Antonio adolescente. Hai un rapporto sereno con tutti, quindi puoi scrivere, puoi vederli. Se volete capire, test unico, semplice e unico, lasciate perdere i fronzoli, no, ma devo capire come ho elaborato, ho elaborato. pensate a una persona che siete stati, avete avuto un divorzio, pensate alla persona che ha divorziato, ancora provate rabbia, tensione, astio, non l'avete elaborato, l'avete visto, siete stati in terapia, l'avete visto, molte volte noi confondiamo il esserci stato tanto tempo su un evento, su una parte, con l'averlo elaborato. L'elaborazione può addirittura arrivare per insight, è raro, è quasi un miracolo, però tu una mattina ti svegli e dici, sai che c'è? Non ce l'ho più con la mia ex, mi ha lasciato, e vabbè, sei innamorato di un altro, e lo senti che hai sciolto quel qualcosa, hai fatto un sogno, il tuo inconscio ha lavorato, si scioglie. Tante volte invece abbiamo fatto terapia, ne abbiamo parlato con tutti, abbiamo fatto una testa così a mezzo mondo, e quindi diciamo, basta, ormai l'ho visto, l'ho rivisto, l'ho elaborato, no, l'ho visto, l'ho rivisto, ma non l'hai elaborato. Ditemi se questa distinzione è chiara. Test, pensate a qualsiasi cosa della vostra vita e ascoltate, col silenzio di oggi, se penso al me impacciato, come lo vedo, sono tranquillo, lo accarezzo, quindi lui sta là, è dentro di me, ma è pacificato. Quando trovate quella parte in cui dite, cavolo, ho fatto 92 anni di terapia, sarà servita a qualcosa, e no, mi dispiace, non è servito. Piuttosto che ragionare per, se ho fatto terapia, vuol dire, deve essere per forza risolto. Vedete, se l'ho risolto, la terapia ha funzionato, cambiate punto di vista. chiaro? E ora, vi dico, prima di andare a mangiare, zompate due minuti, no, no, saltate, vi metto una musica, ora, però va sciolta questa tensione. ok?